Luigi, come mai a Gorno alcune vie hanno dei nomi molto particolari? Ma perché quando c'è stato il modo di fare la toponomastica, perché quando io sono entrato sindaco nel 1967 la toponomastica era una semi sconosciuta o sconosciuta, bisognava riordinare tutta la toponomastica del comune ho pensato che invece di fare ricorso ai vari personaggi più o meno noti, italiani o meno, fosse meglio pescare in quella che era la storia del paese salvo alcune persone che hanno illustrato la storia di Gorno tipo Monsignor Guerinoni o la medaglia d'oro Riccardi non avevamo altri personaggi del posto per cui ho preferito pescare nello statuto del comune dove sono elencate le varie cariche che si sono susseguite nell'amministrazione pubblica per cui abbiamo indicato il console, i deputati, i campari eccetera, il canevaro, tutte figure che hanno contribuito diciamo così alla vita pubblica del tempo grazie a tutti